Ho avvistato un alieno su GTA V, stavo andando con questa macchina sul monte Ciliad mentre c'era il temporale e si sa che quando c'è il temporale ci sono fenomeni molto strani sul monte Ciliad Quando sono arrivato in cima ho visto questa creatura orribile che peraltro faceva dei movimenti molto strani Io non so se voglio più giocare a GTA V